Nel luglio del 1944 un ufficiale nazista, un certo Klaus von Stauffenberg, vedendo il disastro a cui ormai era avviato in maniera ineluttabile il suo paese, cercò di organizzare con alcuni colleghi un attentato per ammazzare Hitler, fare un bel colpo di Stato e cercare di salvare il salvabile prima che veramente la Germania fosse rasa al suolo. Sappiamo dalla storia che non ci riuscì, che quella missione non era destinata al fallimento, una missione impossibile e questo mi porta al Kalenburg con cui volevo cominciare questo snap, perché il film di cui parliamo oggi, Operazione Valkyria, parla di una mission impossible ed è interpretato da Tom Cruise, la star della serie espionistica, ed è scritto da Christopher McQuarrie che ha diretto Mission Impossible 5 e sta dirigendo Mission Impossible 6. Christopher McQuarrie in realtà è un personaggio abbastanza interessante a livello di sceneggiatura, ha legato il suo nome soprattutto ai soliti sospetti, che aveva una bella idea di sceneggiatura, un sorpresone finale che tutti ricordiamo, e che era diretto da Bryan Singer che è il regista di Operazione Valkyria. McQuarrie sperava con Valkyrie di esordire nella regia, poi si vide che non c'era modo di far finanziare il film se non ci fosse stato un regista importante, Bryan Singer nel frattempo era diventato un regista molto importante perché aveva diretto un paio di episodi di X-Men, aveva diretto un Superman di cui sembrava che si dovesse fare anche un sequel. Questo doveva essere uno dei piccoli film da fare tra un progetto nell'altro, un film da 20 milioni di dollari, ma poi entrato Tom Cruise il budget aumentò perché ci si poteva permettere di spendere qualcosa di più, sapendo che i soldi sarebbero rientrati grazie al volto di Tom Cruise. Si arriva a 60 milioni di dollari, 75, forse 90. Diventa un grosso film che racconta un evento storico importante come se fosse un thriller. È un film che, anche se sappiamo come va a finire, è carico di tensione, con un bel cast, dopo Tom Cruise ci sono, beh, c'è Kenneth Branagh, c'è Terence Stamp, Bill Nye e Tom Wilkinson, c'è un'attrice olandese molto brava, Carice Van Houten, che avevamo visto in Black Book di Paul Verhoeven, ed è un film che corona un po' una collaborazione tra McQuarrie, lo sceneggiatore, e il regista Singer che data, boh, è difficile datarla perché i due hanno cominciato a collaborare quando erano bambini, facevano i filmini sulla Seconda Guerra Mondiale in 8 mm nel loro cortiletto. Questo non è un film da cortile, è un film grosso, ricco, teso, fatto bene, che ha avuto qualche problema in produzione. In Germania non volevano avere Tom Cruise, perché Tom Cruise è un personaggio importante di Scientology, che è considerato una setta particolarmente pericolosa, soprattutto in Germania, alla fine alcuni problemi sono stati superati. Nel momento della vendita del film si è puntato più sul nome di Bryan Singer che di Tom Cruise, che in quel momento attraversiamo un momento di scarsa popolarità, ma ecco, è uno dei film con cui Tom Cruise ha cercato di uscire dal suo personaggio di protagonista di Blockbuster, impegnandosi anche a livello produttivo. Questo con Leoni Peragnelli era uno dei due film prodotti da Cruise con la sua socia Paula Wagner con la neonata United Artists, cioè una vecchia major gloriosa di cui Cruise e la Wagner avevano acquisito alcune quote per cercare di farla ridecollare. Non andò questo progetto, ma andò il film. Il film alla fine, con qualche fatica iniziale, riuscì a riconquistare tutto il suo budget ed è diventato oggi praticamente un nuovo classico che racconta un momento molto difficile della storia tedesca. Piccola notazione, nella versione originale gli attori, che sono in gran parte inglesi, non parlano, cioè si era parlato di falsificare l'accento tedesco, hanno fatto anche alcuni esperimenti e poi ci si rese conto che non aveva senso, che era meglio non mettere un carattere, un linguaggio un po' da caricatura e attaccarsi a un realismo dovuto a quello che veniva raccontato. Operazione a Valkyria stasera su Rai Movie, come sempre.